Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgia e sei mesi fa ho deciso di intraprendere una nuova avventura. Ho vissuto per sei mesi ad Adelaide, in Australia, con una famiglia ospitante, la quale si è dimostrata subito molto carina e gentile nei miei confronti, e dove ho incontrato altre tre ragazze, che ad oggi reputo sorelle, due tedesche e una norvegese. Ho frequentato una scuola australiana per sei mesi, dove mi sono trovata molto bene e dove ho fatto molte amicizie. Grazie a questa esperienza ho avuto l'opportunità di visitare nuovi posti, come Sydney, Melbourne e il Centro Australia. Il Centro Australia e Melbourne ne ho visitati con la famiglia durante le vacanze scolastiche, mentre Sydney l'ho visitata con un'agenzia che mi ha dato l'opportunità di conoscere altri exchange students. È stata un'esperienza bellissima che se potessi rifarei, anche se può fare paura all'inizio, prendete coraggio e partite, perché sono esperienze che vi porterete nel cuore per sempre e che vi faranno conoscere persone in tutto il mondo e sono esperienze bellissime.